Siamo con Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli e da Cerra, per presentare il libro sulla storia di Puzzone. Come ex difensore del Napoli, cosa ci può dire anche del rapporto dei difensori di questo europeo? È un buon campionato, ci sono state delle sorprese, comunque meglio così, perché comunque il calcio è anche questo, non è niente di scontato. Insomma, stiamo vedendo delle belle cose. Dopo Maksimovic, che ora si svincola ai sai, quale difensore consigliereste a Napoli? Ci sono già chi è addetto a queste cose, noi non contiamo niente, quindi facciamo lavorare a chi spetta queste cose. Sulla storia del libro che oggi presentiamo, cosa ci può dire della sua storia in questo libro? Il libro non l'ho visto, quindi non so sinceramente cosa ci sia dentro. e quali sono gli anetodi, quindi non ti posso dire niente. Posso dire solo di Pietro, vabbè, che è stato con noi per un periodo e quindi niente, il resto non lo so. Grazie.